Villa Piccinetti di Fano ha ospitato giovedì sera la convention dell'itinerario della bellezza, il progetto di valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord che ha riunito tutti i protagonisti della rete di promozione in una grande occasione di bilancio, confronto e sguardo alle prossime iniziative. Un lavoro interforza che il direttore Amerigo Varotti ha condiviso nell'occasione con gli assessori regionali Francesco Baldelli e Mirko Carloni, l'assessore del comune di Fano Etienne Lucarelli e 16 amministratori per altrettanti comuni facenti parte di un itinerario sempre più allargato negli ultimi anni. Già il 2021 è stato un anno veramente straordinario perché il progetto ha quattro anni di vita ma questo è stato un anno molto impegnativo, tantissime iniziative sia a livello di rapporti e relazioni con i comuni ma anche proprio di manifestazioni di promozione turistica e di comunicazione. Il 2022 si apre già con la novità dei tre comuni in più, quindi Cantiano, Apecchio e San Lorenzo in campo ma anche con un elenco di progetti che abbiamo intenzione di realizzare e quindi è un anno che già si preannuncia molto difficile perché usciremo già a gennaio con l'itinerario del silenzio della fede che avevamo già preannunciato. Poi faremo il completamento dell'itinerario musicale, poi faremo l'itinerario della riviera del San Bartolo e della riviera di Fano per valorizzare il turismo balneare. Poi invece approfitteremo di un avvenimento straordinario che capita il prossimo anno, i 600 anni della nascita di Federico da Montefeltro per realizzare una serie di iniziative che riguardano direttamente o indirettamente il personaggio e quindi una nuova edizione dell'itinerario delle Rocche di Francesco Di Giorgio Martini, questo architetto militare che Federico chiamò alla Corte per completare il Palazzo Ducale e fortificò il territorio e poi faremo un itinerario nuovo che è l'itinerario di Giovanni Santi padre di Raffaello, Giovanni Santi anche lui alla Corte del Duca, ci dà la possibilità di mettere insieme tante località da Fano a Cagli dove Giovanni Santi ha realizzato tante opere. Tra l'altro a proposito dell'itinerario Giovanni Santi realizzeremo anche una mostra molto particolare con un unico quadro perché recentemente è stato ritrovato sotto nella chiesa di San Domenico la testa di San Sebastiano, solo la testa c'è, realizzata da Giovanni Santi, tra l'altro molto bella e quindi questo Giovanni Santi ritrovato lo metteremo in mostra con una iniziativa ad hoc. Grazie. 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 Grazie.